Buongiorno a tutti, sono Enrico Lanati, oggi è il 2 di ottobre e come di consueto trasmetto la videoanalisi di investire.biz, l'unico social network dedicato agli investimenti. Su questo sito infatti potrete scrivere i vostri articoli ma soprattutto commentare quelli degli altri. Andiamo a vedere nello specifico quali saranno i dati macroeconomici della giornata. Oggi è un giorno molto importante perché come potete vedere avremo la cosiddetta employment situation ovvero i non farm payroll da un lato e il tasso di disoccupazione dall'altro. Quindi avremo l'unemployment rate che vedete qua atteso tra il 5.1 e il 5.2 insomma comunque in un intorno diciamo del 5% in America è un dato estremamente positivo quello del tasso di disoccupazione e il dato sui non farm payroll cioè la variazione degli occupati nel settore non agricolo. E' un dato importante questo e il consensus degli analisti lo porta intorno a 203.000 nuove unità. Se ricordate mercoledì è uscito un dato l'ADP più positivo rispetto a quella che era la stima degli analisti e anche in questo caso ci sentiamo di poter attendere un dato intorno alle 210.000 unità, 210.000 nuovi posti di lavoro. Staremo a vedere come sempre come detto il dato sui non farm payroll è il dato forse più importante dell'economia americana insieme a quelle che sono le riunioni del FONC e quindi ci attendiamo una fortissima volatilità sul mercato dei cambi, sul mercato dell'equity ma su euro dollaro in particolare. Quindi partiamo subito col vedere quello che è euro dollaro, tra l'altro vi esorto a scrivere una mail ad assistenza a chiocciano investire.biz per richiedere il trading live che abbiamo fatto giovedì ovvero ieri dove abbiamo analizzato per circa 20 minuti quelli che sono gli scenari possibili in seguito al dato sui non farm payroll che potrebbe uscire. Sostanzialmente gli analisti si attendono un dato abbastanza positivo e del motivo per il quale anche questa mattina euro dollaro ha iniziato a scendere. Io penso che possa raggiungere l'area di 1.11.40 in tempi abbastanza rapidi quindi fare una ventina di pip fino ad attendere le ore 14.30 che è l'orario nel quale il dato verrà diramato al pubblico. Il dato appunto vi esorto a richiedere la registrazione del trading live proprio per vedere quali saranno i possibili scenari su questo dato macroeconomico ma ci sono degli strumenti finanziari che sono particolarmente interessanti in questo momento. Mi riferisco al gold, andiamo a prendere immediatamente il grafico del gold, andiamo a prendere il grafico del gold. Guardate che cosa è successo su questo grafico che è estremamente interessante. Sembra quasi che siano stati rotti questi livelli estremamente significativi che sostenevano il prezzo del gold e i prezzi sono scivolati fino ad area 1.108. Bene è un dato tra i più bassi insomma dell'ultimo periodo che conferma quella che è la debolezza del dollaro. Molti di voi, scusate del gold, molti di voi si saranno messi short a 1.140, noi abbiamo ancora questa posizione in portafoglio e siamo convinti che non sia assolutamente finita qui. Tant'è vero che il livello di 1.100 che è un livello estremamente importante proprio dal punto di vista anche psicologico per i mercati non appare più così lontano. Quindi assolutamente abbiamo la posizione su euro-dollaro, siamo dell'idea che sia da mantenere, scusate sul gold, siamo dell'idea che sia da mantenere almeno fino a 1.100 ma potrebbe esserci appunto una rottura anche di questo livello psicologico piuttosto importante che potrebbe aprire a nuovi scenari ancora più ribassisti. Vi segnalo un ultimo cross per questa mattina, andiamo a selezionare Forex, Audi CAD sul quale siamo al momento esposti. Andiamo a selezionare il cross Audi CAD, ecco qua. Aspettiamo che si carichi il nostro grafico. Ebbene, guardate, noi qui avevamo aperto una posizione, andiamo a prendere un grafico giornaliero dove si vede bene, dove a nostro avviso insomma c'era la possibilità di un ritracciamento perché avevamo fatto questo calcolo, avevamo visto che questi erano livelli assolutamente importanti, assolutamente caldi, ebbene bisogna mettere lo stop in pari su quest'operazione perché in questo momento ha iniziato a virare. Guardate, sono stati rotti questi livelli di supporto, che sono dei livelli di supporto molto importanti, da qui lo spazio per arrivare rapidamente fino a 91, 0,91 e 50 è, diciamo, c'è molta strada insomma da poter fare ancora su questo cross, quindi a mio avviso i livelli di supporto sono stati rotti, adesso non c'è più nulla che possa tenere questo movimento ribassista quindi io penso che si arriverà in tempi abbastanza rapidi a 0,91 e 50, quindi c'è diversa strada ancora da fare, perché non ci sono supporti in mezzo con questo io vi segnalo la nostra presenza, mia e di Luca, al Trading Online Expo di Borsa Italiana il 22 ottobre, quindi per chi volesse venire a conoscerci direttamente Trading Online Expo Borsa Italiana il 22 ottobre, quindi giovedì, dalle ore 13 e 30 alle ore 15 saremo in sala gialla per iscriversi all'evento basta cliccare su iscrizione tol expo e selezionare giovedì con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading